buongiorno a tutti sono maria rinaldo allora dopo tanti tentativi e tanti video guardati sono riuscita a fare una meringa al forno al microonde allora ho guardato tanti video ho visto che alla fine io facevo la meringa o mi si bruciava o si afflosciava o si induriva il problema è questo perché vi dicono le quantità le quantità non servono a niente a dirle perché dipende dall'uovo quanto le mettete all'interno e poi dipende dal vostro microonde ora vi faccio vedere la tecnica che ho usato io e come fare per fare delle meringhe al microonde gli ingredienti per fare una meringa al microonde servono un uovo usiamo oggi e 300 grammi di zucchero a velo iniziamo a mettere l'uovo mettiamo solo scusate il bianco dell'uovo poi iniziamo questi qua sono 300 grammi però non è detto che lo usiamo tutti dipende dall'assorbimento del bianco dell'uovo iniziamo a metterle purtroppo non servono le cruste ma dovete fare l'impasto con le mani come vedete bisogna aggiungere ancora dello zucchero a velo come vedete si attacca ancora le mani vuol dire che non è pronta buttiamo dentro versiamo altro zucchero a velo mi raccomando se vedete che non vi bastano 300 grammi di zucchero come avete iniziato aggiungetelo fin quando vedete che la pasta non si attacca più alle mani vedete la pasta non deve più attaccarsi alle mani deve diventare compatta una volta così l'impasto è pronto mi raccomando di solito questa merinca non si usa per mangiare da sola ma viene utilizzata per un fondo di una torta per delle decorazioni di torte quindi il rosso che togliete dalle uova vi serviranno per fare la crema pasticcera allora una volta che avete preparato tutto l'impasto fate delle piccole palline mettetele separate nel piatto direttamente del microonde allora io ho notato che nel mio microonde che questo dipende tutta la microonde non posso metterlo centrale perché ha una cottura diversa da quelli laterali e si brucia la merinca quindi io le metto tutte divise così lo metto nel microonde a un minuto ma io già so che va bene perché già l'ho controllato voi prima di fare questo iniziate a fare le prove provate la cottura di un minuto se va bene viene come ora vi faccio vedere pronta se non va bene cambiate la cottura dovete guardare dipende dal microonde due minuti un minuto e mezzo dipende ecco qui sono uscite un minuto come avevo detto per staccarle molto delicatamente girate e la merinca viene staccata e dovete girare vi ripeto sono buone ma per fare delle decorazioni che poi vi farò vedere un altro video ma non per mangiare perché chi è abituato a mangiare la propria merinca questa qui non è proprio una merinca di quella ma già proprio le torte per dei biscotti e delle decorazioni delle cose sfiziose è buono come vedete ho fatto varie forme ho fatto anche uno un pochettino più grande per fare una tortina piccolina di quattro persone e tante merenghine grazie per avermi seguito e buon appetito